E' di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la notte fra Sabele e Domenica lungo la statale 385 Catania-Caltagirone all'altezza dell'innesto con la provinciale 28 Prima che conduce invece in al centro abitato di Scordia. Vittima della strada un giovane di Scordia, Bruno Conti Canalaro, che avrebbe compiuto 26 anni il prossimo venerdì. Secondo una sommaria ricostruzione compiuta dai carabinieri della compagnia di Augusta che hanno rilevato l'incidente, si tratterebbe di un sinistro autonomo. L'alta velocità sarebbe la causa principale. A dimostrazione di ciò una lunga e brusca frenata prima dello stop non lascerebbe dubbi. Il giovane che viaggiava a bordo di un Alfa 147 anziché fermarsi allo stop ha proseguito la corsa sugli anfratti per poi caldapultarsi con tutta la vettura e dopo aver compiuto un volo di almeno 20 metri dinanzi la stazione dismessa di Palagonia Fil di Donna. Il giovane faceva il trattorista con il padre nella discarica di San Giorgio ed era abbastanza conosciuto nel paese di Scordia.